Benvenuti gentili telespettatori a questo nuovo appuntamento di Focus. Questa sera voglio parlare con voi di una serie di articoli che sono apparsi sulla stampa nazionale in questi giorni, ma prima voglio presentarvi una bella rivista che si chiama Elisir di Salute, che potete trovare facilmente in edicola, una rivista che è specializzata in argomenti che sono sicuramente tra le tematiche di cui noi come Antropos ci occupiamo, il cibo e la salute, l'alimentazione che può provocare i calcoli o quale è da consigliarsi nel caso di una calcolosi biliare o renale, le piante medicinali, per esempio si parla della liquirizia, le proprietà benefiche della liquirizia e ancora su Salute e Benessere la potenzialità della voce e l'allarme smog nelle città dopo appunto il rapporto che è stato pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e questo è il numero appunto di marzo-aprile, ricordo di Elisir di Salute, il punto di vista di medici e di ricercatori, una bella rivista che vi voglio consigliare. Adesso passiamo invece ad un argomento più frequentemente trattato dalla nostra trasmissione, cioè il tema dell'inquinamento, in modo particolare dell'inquinamento industriale, perché come avrete letto nei giornali di questi giorni, dopo il problema della siderurgia e del centro siderurgico dell'Ilva di Taranto, si è creato un nuovo allarme, una nuova problematica che riguarda Vado Ligure, infatti il GIP accusa e l'azienda ruola l'ex ministro Severino per difendersi. 74 milligrammi è il valore registrato delle polveri sottili per la legge, il limite non può superare i 120 milligrammi e naturalmente il grosso problema è che ci sono delle indagini in corso perché pare che circa 400 persone, operai che hanno lavorato in questa centrale a carbone della Tirreno Power di Vado Ligure, siano decedute per cause legate alla produzione industriale. Naturalmente la magistratura deve svolgere le sue indagini, devono essere condotti evidentemente degli accertamenti medico-legali per capire se realmente esiste un nesso causale tra queste morti e tra le patologie che si sono verificate tra gli operai e la centrale a carbone, ma certamente l'allarme ancora una volta è tale. L'interrogativo che si solleva ancora una volta è se nel nostro paese sia possibile fare produzione industriale senza necessariamente inquinare, senza necessariamente mettere in confronto e a conflitto il diritto al lavoro con il diritto alla salute. Termina qui questa puntata di Focus, adesso lascio la linea a Cristina Colette e al suo Naturalis, questa sera avremo ospiti l'hotel-ristorante San George di Torino, quindi noi ci rivediamo domani sera sempre alle ore 20 e 30, sempre su Quarta Rete. A tutti voi buona serata.